Dal 3 giugno il Sunday Night è Summer Edition. Eventi e Radio Nostalgia ti aspettano domenica 3 giugno al Beach Club Versilia per il primo atto dell'estate 2018 della Perishow dei Record. Aperishow dalle 20 e 30, dalle 22 e 30, in console. Gio Mazzola, Luca Giorgi, Andrea Secci e Simone Gencarelli. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, dalle 21, domenica 3 giugno, Sunday Night, opening party al Beach Club Versilia, per info 320-67-69-067. Un appuntamento in collaborazione con l'Aperitivo in Famiglia.